Paura notturna, Vasco Rossi in elicottero per malore. Nel cuore della notte, la tranquillità è stata spezzata da una notizia sconvolgente. Vasco Rossi, il celebre rocker italiano, ha avuto un malore improvviso. Un'ambulanza è arrivata prontamente, ma le condizioni di Vasco erano troppo gravi. Si è deciso di chiamare un elicottero per il trasporto d'urgenza. Il malore ha colto Vasco nel pieno della notte, destando preoccupazione sia tra i familiari che tra i fan. L'artista è stato subito trasferito in un ospedale specializzato. I medici hanno immediatamente valutato la situazione, identificando un problema serio a un organo vitale. La rapidità dell'intervento era cruciale per salvargli la vita. Durante il volo in elicottero, il personale medico ha monitorato costantemente le condizioni di Vasco, cercando di stabilizzarlo il più possibile in attesa dell'arrivo in ospedale. All'arrivo in ospedale, Vasco è stato accolto da un team di specialisti pronti a intervenire senza indugi. Ogni minuto era fondamentale per il suo recupero. La notizia del ricovero di Vasco Rossi si è diffusa rapidamente, provocando un'ondata di angoscia tra i fan che seguivano con trepidazione gli aggiornamenti. Le prime ore sono state critiche, con i medici che hanno lavorato instancabilmente per stabilizzare le funzioni vitali dell'artista e affrontare il problema all'organo colpito. Familiari e amici stretti sono stati informati e hanno raggiunto l'ospedale, vivendo momenti di intensa apprensione per la sorte del loro caro. Gli esperti hanno continuato a studiare la situazione di Vasco, cercando di identificare la causa del malore improvviso e pianificando eventuali interventi chirurgici. Le preghiere e i messaggi di incoraggiamento hanno invaso i social media, con fan e colleghi che hanno espresso solidarietà e affetto per il comandante. Nel frattempo, Vasco Rossi, sotto stretta osservazione medica, ha mostrato segni di lieve miglioramento, sebbene la situazione restasse ancora molto delicata. Le dichiarazioni ufficiali dei medici hanno mantenuto uno stretto riservo, comunicando solo gli aggiornamenti essenziali sullo stato di salute dell'artista. Il mondo della musica e quelli che amano Vasco Rossi sperano con tutto il cuore in un recupero completo, mentre continuano a mandare vibrazioni positive. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Grazie per il vostro supporto!